Valerio Di Mattia è stato un consiglio comunale produttivo, insomma tanti gli interventi, ovviamente tutti per la salvaguardia dei Tigli e prevasa la linea che porta a tavolo tecnico. Ieri sera è emerso chiaramente come sia necessaria, sia richiesta un'azione di tutela rispetto a via risorgimento, al parco secolare dei Tigli e questa condizione è stata chiaramente posta alle parti politiche da tutta la cittadinanza e tra l'altro è stata anche raccolta dalle parti politiche. Io credo che si deve avere però chiara l'idea che vadano approfondite le dinamiche procedurali, l'esistenza dei permessi necessari per compiere ingressi su quel tratto viario e fare azioni che potrebbero anche risultare dannose, come sono state ritenute dannose dalla popolazione. La perdita del parco di via dei Tigli sarebbe considerata una ferita gravissima per la comunità di Martinsicuro ma addirittura, come è chiaramente emerso ieri, anche per la Val Vibrata. Quindi questo è un aspetto. Ieri sera anche di fronte al documento che è arrivato con un tempismo oserei dire perfetto, sono stati anche tecnici che hanno detto esattamente il contrario, cioè che quei Tigli hanno avuto sia una forse cattiva gestione ma che assolutamente presentano uno stato vegetativo compromesso. La parte secondo me più interessante è stata quella del rilancio, dell'invito fatto all'amministrazione comunale appunto ad ampliare il dibattito, cioè a prevedere la sistemazione e la riqualificazione di via risorgimento. Su questo noi abbiamo potuto notare che vi è ormai una grandissima condivisione sulla necessità di riqualificare una zona che è degradata e che oggi, a vent'anni, dallo sviluppo vorticoso che ha avuto tutta l'area circostante, non risulta ben dimensionata. Forse la parte più interessante e anche la parte necessaria da sviluppare è portare sul tavolo tecnico questo tipo di istanza. A proposito di quello che stava dicendo c'è una sollecitazione particolare da fare all'amministrazione, in particolar modo al sindaco? Io credo con molta onestà che se si deve fare un'azione per riprogrammare lo sviluppo dell'area di via risorgimento, riqualificarla, si sono determinate proprio erisiera le condizioni ideali. Molte volte l'amministratore si trova a navigare contro vento, questa volta l'amministrazione di Martinsicuro veramente si trova col vento in poppa perché trova concordi sia tutti i rappresentanti dell'associazione della cittadinanza, sia le parti politiche di minoranza, addirittura le amministrazioni di Alba e Colonnella che si sono espresse con pieno sostegno. Pertanto quando si navica col vento in poppa non ci dovrebbe mai essere la tentazione di strambare, di invertire la rotta che sembra per il nostro territorio ormai chiara.